Fra l'analisi tua sul fatto che i problemi italiani hanno radici, in realtà l'ha dato leggermente addirittura prima, anche se ovviamente sui dati hai ragione tu, ma l'Italia alla fine degli anni Sessanta, quando si dimostra incapace di distribuire i dividendi del primo ciclo di crescita, che si rompe qualcosa, da allora in poi iniziano le droghe, che sono inflazione e svalutazione negli anni Settanta, debito pubblico negli anni Ottanta. Negli anni Novanta non le puoi utilizzare nessuna di quelle tre, se no avresti continuato a farlo e infatti ti si ferma il pil pro capite. Questa è assolutamente così. La ricomissione industriale in Italia avvenne con vent'anni di ritardo e a botte di sangue e lacrime, perché quando la fai vent'anni in ritardo, avvenne con la sparizione di interi compagni industriali e con quelli industriali al centro nord, che io chiamo nel cilindro di 150 miglia nel raggio del Po, che tiene in piedi il paese, la colonna che tiene in piedi, la quale meccanica, sono quelle cose che sapete, la farmaceutica che è sport, non il made in Italy, di cui parla Giorgia Meloni non ha idea di cosa dice, ma quelle robe serie. E lo fecero facendo TFP loro. Infatti sono produttivi. Se tu controlli la productivity interna al manufacturing italiano, non sarà proprio la Baviera, però siamo lì. Insomma, anzi, direi che delle volte anche sopra. È il resto, che però è l'ottanta per cento del sistema economico, i servizi, e quindi dobbiamo concentrarci su quelli. E così come ovviamente sono d'accordo sul fatto che il problema dei TFP sia sui servizi. Ma il punto qua qual è? Che un'offerta politica che dica queste cose, in Italia, non riesce intanto a strutturarsi in maniera unitaria, e qui veniamo, verremo a un punto più di stretta attualità politica. E anche qualora lo facesse, o comunque finora, non riesce a prendere il consenso.